io gli ho passato un paese qui qui dopo ci interrogate c'è a scuola ci parecci i suoi neri quando andavamo a scuola qui erano 45 a 50 eravamo e certi soppertuti e come siamo andati a scuola sempre non erano giù e quando arrivavano ci ricontemmo i suoi neri che mi hanno passato i vittimi paesi e tutto io sono stato sempre in Tannone insomma per tutto un continente l'andata che ho preferito era quando eravamo tutti i siti li mandavamo a scuola qui c'era la scuola, la sera ci ritrovavamo, non c'era mica ciò che c'era, non c'era mica la televisione non c'era mica affari così e si passava appena andavamo da uno o due l'astro e qui l'astro a passare in una strada ma andavamo da uno o due l'astro a fare era piuttosto poco ma è appena difficile dire ciò che mi ricordi può essere che ci fossi con un certo amicizio in più ma è difficile appassare la questione ciò che ricordi più in una regione qui che ti hanno abbandonato, i castanti come ti hanno abbandonato, questo è l'affare che mi ha toccato più in un nuovo giuvento, quando io qui qui con tutti questi affari secchi e tutto, mi faccio tutto un malavuco. Preferisco essere ottimista che pessimista, preferisco per la cosa, allora mi sono andato io mi sento, non so mica corso più che uno, mi sento corso come tutti i corsi, ho accorto qui, con le difficoltà, con le vantaglie, con tutto, sono stato sempre qui, ma penso di uno dei corsi che preparano già su un pezzo di bambino, non potendo andare a un continente come a Gionfardello così, e sono corsi come noi, anche più, perché sono corsi che le mancano più che uno, allora ciò che penso. Spero che quando si passi qua, che non ci sia mica problema per la politica, per gli affari qui, e che sviluppi la cursa che si passi, come lo giuro, e tutto ciò cosa, e che è antellino, il resto, secondo me, non faccio la solità di percettino, siamo a piena di sponsevo, e non è in gutta, qua. Grazie a tutti